Ciao su YouTube, qui con voi, ciao e boom, oggi ragazzi siamo in un nuovo video, oggi ragazzi Napoli, Praga, di Champions League, siamo qui allo Stadio Maradona in compagnia di Chef Frank Finalmente siamo riusciti a mano, ti stai zitto, ti devi calmare, lo so, lo so Ultima partita del girone, lo sapete la situazione di Napoli ha 7 punti, Real Madrid c'è qualificato Basta che non prendiamo più di 3 gol e passiamo il turno Dovremmo essere una passeggiata ma non dobbiamo considerarla una passeggiata Vabbè, non è una passeggiata, però secondo me per il morale dei giocatori, anche il morale dei diffusi Napoli stasera deve vincere, deve vincere, sono completamente d'accordo Passare il turno e sarebbe una bella gioia, dai Eh sì, per dare anche un rilancio dopo 3 sconfitte costitutive, vincere sarebbe l'ideale Oh, se perdiamo 1-0, mi arrabbio, oggi si deve vincere Oggi non devono pensare al pareggio per 1-0, Napoli ha da vincere Sì, per noi, sembra una bella sensazione Tanti mi piacciono, tanti commenti, iscrivetevi al canale Però ma vedi che una cosa, lì se si arriva a San Manuel No, poi il Milan lascia lo fare No, io so che poi venite un ultimano, ciao Ricordatevi sempre la famosa frase, quando salo quei gradini Quando salo, venite a festa a me Ma poi mi stai bugiando da voi Vabbè, la serata permette anche Bello, 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 bello Siamo nel gioia Napoli-Braga di Champions League La prima partita per noi in Champions Esatto È una bella emozione Voglio gridare l'urlo della Champions A Mallucca Sul terreno del gioco Ci sono dei campioni d'Italia La cultura delle formazioni Cominciamo con la squadra ospite Marana Sgreda il lavoro di Ronny Teraus Nel numero di Ronny Teraus Nel numero 5 Tanti Nel numero 6 Nel numero 5 Guarda Tres, tres, tres Cori la numero 9 Ficco Osime Oh man Con la numero numero 13 Arriba Arriba Rettamani Per me non ti Nelena Di fuori di grattà Sempre E con te Forza Amorim Sì 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 Oh 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 Sai dai Ma dai A tre minuti Oh Che salata Cominciamo bene Cominciamo bene Per me Oh 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 è cattuto a ballo gli ho detto io all'artico non so chi abbia fatto dovuto vado vado la sera vince la vince la vince dai 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 che cazzo è oh che farà che ha fatto meretto e oggi siamo non ci vediamo troppo non ci vediamo troppo il loro gioco da posto bene ma comparatone meretto per essere sinceri qua grande madame grande tutti d'amore ragazzi ah ah grazie bravo c'è lì qui dà una collazione la 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 terra non è proprio male 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 Comunque noi siamo aggiuntati Eh, questo è importante È importante Comunque non recuperare Non fa 5 gol Un po' impossibile Anzi, stavamo parlando prima Si fa rientrare qualche pagina Magari l'Istria Si Il Cagliuzzo Il Maidano Non lo so Si Ci fa giocare un po' questi ragazzi qua Ci vediamo al secondo tempo sempre forse Inizia il secondo tempo di Napoli-Braga Si ripassa dal 2 al 0 del Napoli Dai, dai, dai Tira giù Volitano Lo stava per fare Volitano Bravo, bravo, bravo Stiamo giocando bene Eh, che cazzo Vai, va la scheria Vai, va la scheria Nooo Stavamo andando al cuore Potevamo fare il 3 al 0 ma Stavamo andando Un chef perso Ragazzi, praticamente è finita la partita tra Napoli e Braga 2 al 0 come eravamo rimasti poi nella fine del primo tempo Papà è stato un secondo tempo Vabbè Dove Napoli ha atteso il Braga Non ha rischiato Questa È stata una partita di rinforzato un bel gol Cosimena nonostante il viaggio Ha fatto gol Siamo agli ottavi e questo è importante Siamo agli ottavi e questo è importante Dappoli agli ottavi Ora, se non sbaglio, il 18-19 dicembre ci sarà il settore Che faremo la diretta Seguiteci Per poi giocare gli ottavi Al frattare Pronostico, chi prenderemo? L'Arsenal Pure io di cazzo Secondo me in Inghilterra andiamo sicuro Secondo me c'è un bel faggio passaporto Subito Subito Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video Sempre e solo forza Napoli Ciao a tutti Eh, sta partito più di grigia Si mette più fuori Eh, ciao Ciao a tutti